Sindaco, quello che farà o non farà il governo, cosa può fare l'amministrazione comunale? L'amministrazione fa tutto, fa tutto il contrario di tutto. Agisce sul piano culturale, agisce sul piano sociale, lo fa anche senza risorse. Ricordiamoci che questa amministrazione ha rotto il rapporto tra camorra e politica, ha rotto un sistema collusivo, stiamo in mezzo alla strada, abbiamo nei luoghi della devianza, siamo cacciatori di talenti, abbiamo recuperato persone che avevano sbagliato e che oggi sono testimoni di legalità, come avete visto anche l'altro giorno in Piazza Nazionale, ma è ogni giorno accade tutto questo. La città non si fermerà un attimo. Questa è la città che si è liberata da sola, per prima in Europa dal nazifascismo. Questa città si libererà anche da questi barbari criminali che sono nemici della città. Quindi ogni napoletano onesto deve considerare queste persone e chi gli fa un po' di cordone di protezione attorno degli antinapoletani e dei nemici della città. In questo modo risponderemo e voglio anche cogliere l'occasione per esprimere la gratitudine a quelle donne e gli uomini delle forze di polizia e anche a quelle donne e uomini della magistratura che non hanno smarrito il senso delle priorità, che ogni giorno lavorano in condizioni difficili, lo fanno anche con risultati encomiabili, come è accaduto con gli arresti di qualche giorno fa. In questo momento però chiedo a tutto l'apparato dello Stato di individuare questa come una priorità, rinforzare uomini e donne per il controllo del territorio, rinforzare uomini e donne per le attività investigative e avere quella concentrazione giusta per dare la risposta giudiziaria nel più breve tempo possibile. E Napoli sarà al fianco di questi servitori dello Stato. Napoli la sua parte l'ha fatta, continuerà a farla, ma vedete dove siamo arrivati con la luce in questi anni senza soldi, avendo molto frequentemente lo Stato contro e molti poteri criminali che si sono messi di mezzo. Lo dico con molta sincerità, in questi otto anni i principali avversari li abbiamo avuti all'interno dello Stato ed è per questo che oggi la voce la portiamo alta. La portiamo alta soprattutto sapendo che all'interno dello Stato ci sono persone che ci ascoltano e sanno come schierarsi, a cominciare dal Presidente della Repubblica che ancora una volta viene nella nostra città domani, persona che conosce benissimo le mafie, le sue origini e le sue evoluzioni e quindi io sono molto molto orgoglioso del fatto che il Presidente non ha mai fatto mancare la sua attenzione, la sua sensibilità e la sua vicinanza a questa città che ha tante ferite ma che ha raggiunto delle vette impensabili e le ha raggiunte certe volte nonostante certi settori dello Stato. Grazie.